E' facile, dai. Questo è un puzzle da 5.000 pezzi. Scopo del gioco è farlo nel minor tempo possibile, senza guerre. Ma scritto Saverio, quello del forum Pazzo Puzzle. Ancora piace per il culo, ti abbiamo detto. Siamo lenti, ma costanti. Una volta completato, lo affiggiamo nell'apposita area dedicata. A posto della foto della nonna di Emanuele. Sì, sono ci fosse Emanuele. Scusate il ritardo, eh. O famo sto puzzle? Mario. Mario. Eh? Vieni. Ma che è? E corri. Ma che è? Ma come? Eccomi, raga, eh. Scusate il ritardo. Che hanno chiuso le strade, sono scappate le bestie da un gioco. Potete capire, a novent'anni era tutto un viavai dei tigri, leoni, dei squali. Ah, raga, ma che... Io? Prima? Stavo giocherellando, come al solito, e... Dite che sono stati quanti? E' legittimo. Ah, raga, è giusto! È giusto! È giusto! E andiamo! Il pugno! Il pugno! Ma quanto è bellissimo! Il nostro primo incastro. Raga, mettetevi vicini. Che vi lascia la foto da Amato subito, Emanuele. Il simbolo del nostro successo come squadra. Vado dove prende e chiede a invio. Questa poi è la mantipura a Savelio del forum, così vediamo se la smette di pigliarci per il culo. Nona Demanuele, preparate ad essere rimpiazzata! Che poi, infatti, sto fatto mica è giusto. Cioè, lo dobbiamo mettere alle foto delle nonne di tutti... Non ho avuto nessuno. Ma che c'entra? Questa è casa di Emanuele. Vabbè, io dicevo così. Che poi arriva Emanuele e dice, perché non trovate mai lavoro? Eh, ce l'ha appesi in casa, è perché... Sti vecchi de merda, non se levano mai di torno. Non piace la pensione. Tutto il giorno in casa a bere il fernetto. A buttare le mondiche ai piccioni. Intasano le farmacie. Incastrano le rotatorie. Con quei cappelletti. Riccardo ha i spirini. Vecchi de merda, oh. E chi l'ammazza, questo? Chi è? Emanuele. Dice, grandi, raga. Mi dispiace, avrei voluto esserci, ma sto al... Sto al f... Sto al funerale di nonna. Voglio, mamma, mi piange il cuore, però... Io non ce la faccio a tenerlo. Mario, pure te, però. Hai detto il simbolo dei vecchi de merda. No, ma che è stato detto che è il simbolo del nostro successo? Voglio, io non ce la faccio, ve l'ho detto. Mario. Vabbè, ho capito, va. Facciamo sta cosa. Che Dio abbia aiutato noi. Abbiamo fatto la scelta giusta. Non era cosa. Quanto era bello, però. Mando un messaggio di condiglianza a Emanuele. Emanuele. Regà, non c'avete idea. Nonna è viva. Ma che vuol Dio? Viva come? Ma non lo so, non si capisce. Dice che questa qui ha bussato, gli hanno aperto. Sarzata è andata a casa. Oddio, no. Ci voglio credere. Ci voglio credere. Ma che abbiamo fatto? Era il nostro primo incastro. Stavo qua, davanti a noi. Ci abbiamo messo un mese per farlo. Non ci ricapiterà mai più. Oddio. 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 Ed vecchia mortem. Ed vita. Ego, maledico. Maledico vecchia. Quando paghiamo pensione. Ed contributi a pensione. Ed cardio aspirine. Ed vecchia. Edes. Ego te maledico. Ma regà, ma sono sicuro che il malocchio si fa così? Ma infatti questo non era quello per risvegliare i morti. Oh. E te maledico E chi ama rugoso Oh, oh, e vaffanculo, regà È duro che facciamo mmm, mmm, mmm Io non posso manco così Ma fatela da soli, sta maledizione, va Ma che è davvero davvero, eh Sta vecchia del merda Ehi, come te maledico Rugam boccam quampides